Cari amici, cari telespettatori, un benvenuto alla trasmissione I Tesori di Davide. Abbiamo lasciato nell'ultima trasmissione in sospeso il Salmo 39, abbiamo avuto modo di riflettere, di meditare, di leggere praticamente i primi cinque versi e ci aspetta in questa nostra occasione la lettura dal verso 6 fino alla fine del Salmo che è il versetto 13. E' così che poi avremo la possibilità di addentrarci nella fase seconda di questo Salmo di Davide che fu dato al capo dei musici affinché potesse essere e diventare un canto del popolo di Israele. Come sempre abbiamo il contributo di Federica che ci assiste nelle nostre riflessioni portando dei contributi che vengono da alcuni testi che noi utilizziamo e che desideriamo anche sottoporre alla vostra attenzione I Tesori di Davide pubblicati dalla casa editrice Il Chia che sono appunto la traduzione di questo commentario di Charles Spurgeon ed altri commentatori di altri tempi. Oltre a questo però abbiamo anche altri, come dire, contributi. Fatemi orecchie da Federica, come vanno i suoi studi insomma? Perché abbiamo lasciata che partiva per intraprendere questa carriera scolastica a Milano. Beh, sicuramente sono abbastanza intensi però ringraziando Dio il mio percorso prosegue senza apparentemente alcun intralcio per il momento. Bene, il nostro augurio è la preghiera che il Signore possa continuare ad aiutare Federica in questo percorso scolastico lì a Milano dove possa essere anche lì una testimonianza attraverso la sua fede per i suoi colleghi, amici e studenti. Benissimo Federica, direi che possiamo procedere con la lettura del Salmo 39 con i versetti da 6 a 13. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, si affanna per qualche vanità. Egli ammassa senza sapere chi l'accoglierà. E ora, oh Signore, che aspetto? La mia speranza è in Te. Liberami da tutte le mie trasgressioni. Non fare di me il vituperio dello stolto. Io me ne sto muto, non aprirò bocca, perché sei tu che hai agito. Toglimi da addosso il tuo flagello. Io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Quando, castigando l'iniquità, tu correggi l'uomo, tu distruggi come la tuignola quel che ha di più caro. Certo, ogni uomo non è che vanità. Sela. O Eterno, ascolta la mia preghiera e porgi l'orecchio al mio grido. Non esser sordo alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero presso a te, un pellegrino come tutti i miei padri. Distroi da me il tuo sguardo, onde io mi rianimi, prima che me ne vada e non sia più. Ecco, la profondità di questi testi sono naturalmente una miniere inesauribile di ispirazione per una saggia condotta della propria vita, della propria esistenza. Le Sacre Scritture non sono soltanto testi speculativi sotto il profilo della spiritualità, ma sono anche dei manuali pratici per la vita, per l'esperienza quotidiana. Leggiamo quindi Federica il versetto 6 che ci in qualche maniera illustra una dinamica della vita, l'uomo che si affanna, l'uomo che è costantemente alla ricerca di accumulare beni per se stesso, ma poi la domanda è questa, per se stesso fino a quando? e quindi il Salmo ci in qualche maniera illustra questo aspetto. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra, certo s'affanna per quei che vanità, egli ammassa senza sapere chi raccoglierà. Beh, quindi l'uomo va e viene come l'ombra. Effettivamente basta semplicemente una giornata di sole e nello stesso tempo anche nuvolosa per capire quanto vero sia la descrizione del Salmo, no? L'ombra che va, l'ombra che viene dal giorno, o passa dal giorno alla notte. E questa è, come dire, la provvisorietà della storia umana dell'uomo stesso. Mi sovviene la parabola che raccontò Gesù per illustrare proprio questa dinamica di un uomo che quell'anno aveva avuto dei raccolti eccezionali e alla fine di questo anno, di questa annata così favorevole, così prospera, fece questa dichiarazione. Adesso prenderò tutto questo bene, questo raccolto, lo riporrò in granai nuovi, poi dopo mi rilasserò e dirò alla mia anima, e qui forse è stato il peccato, dire alla propria anima, anima mia, mangia, bevi e godi. Non pensare più a niente, stai proprio bene perché hai accumulato e sei tranquilla. Ma dice Gesù che quella notte stessa una voce gli disse Stolto, Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E che fine hanno fatto questi beni? Che giova l'uomo, disse il nostro maestro, se guadagna tutti i beni e tutto l'oro del mondo, ma poi fa perdita della sua anima. Abbiamo Federica un commento su questo testo? Sì, vorrei leggerne uno, I Charles Spurgeon. Gli uomini del mondo camminano come viaggiatori che hanno avuto un miraggio. Illusi, ingannati, imbrogliati, presto saranno colmi di delusione e di disperazione. Noi non conosciamo i nostri eredi perché i nostri figli muoiono e degli estranei prendono il posto degli avi. I beni cambiano proprietario e i lasciti, anche se assicurati in tutti i modi, cedono al potere corrosivo del tempo. Gli uomini si alziano presto e rimangono alzati fino a tardi per costruire una casa. E poi un estraneo ne percorre i corridoi, ride nelle sue stanze e, senza ricordare chi fu a costruirla, la considera a casa propria. Questo è uno dei mali sotto il sole a cui non c'è rimedio. Sì, il versetto successivo probabilmente è anche il più breve di tutto il Salmo ed è sostanzialmente una riflessione, una domanda, ma nello stesso tempo anche una risposta. Possiamo leggere il verso 7, Federica? E ora, oh Signore, che aspetto? La mia speranza è in Te. E ora, a questo punto, Signore, che cosa aspetto? Forse nella vita abbiamo necessità di porci questa domanda, abbiamo necessità di porci questo interrogativo in momenti, direi, importanti, in momenti salienti, a quei vivi che in qualche modo condizionano il nostro futuro, no? Quando siamo lì per fare delle scelte fondamentali, per dare una direzione o un'altra alla nostra vita. Ed ora, Signore, che cosa aspetto? A questo punto, Signore, che cosa voglio? A questo punto, Signore, cosa desidero? Probabilmente qualcuno che ci sta ascoltando sentirà forte questa domanda nel suo cuore. E adesso, Signore? E mo? Scusatemi questa espressione un po' più popolare. Adesso, Signore, che farò della mia vita? Che ne sarà di me, del mio futuro? Beh, abbiamo detto, c'è una domanda, ma c'è nello stesso tempo anche una immediata risposta da parte del salmista che dice io, la mia speranza è in te. La mia speranza è in te. Bene, Federica, abbiamo qualche contributo su questo, qualche riflessione? Sì, vorrei proseguire leggendo ancora quello che Spurgeon ha scritto a riguardo. la mia speranza è in te. 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 è in te. Ma è soprattutto una speranza bella, no? Dice la scrittura, beata speranza anche per il proseguimento della nostra vita oltre, come dire, la soglia del percorso terreno. perché come credenti noi crediamo alla prosecuzione della vita in un'altra sfera, in un'altra dimensione che è appunto la vita eterna. Quindi avere, riporre la propria fiducia, la propria speranza nel Signore è indubbiamente un elemento di ricchezza spirituale per l'uomo. Alcuni in qualche maniera devo dire anche forse sinceramente rivolgendosi ad un cristiano, ad una cristiana forse sarà capitato a molti di voi che qualcuno ha potuto dirvi io ti invidio per la convinzione della tua fede perché tu hai delle certezze, perché tu hai delle speranze. Ma non si tratta di invidiare, si tratta semplicemente di sperimentare, di provare. E poi il Salmo prosegue con una invocazione da parte del salmista nei confronti della necessità di essere liberato. Ma liberato da che cosa? Un re sostanzialmente quali sono le paure del re? Forse dei nemici del regno, forse dei nemici interni, forse di possibili guerre scatenate da altri regni. No, Davide sta chiedendo a Dio la liberazione dalle sue trasgressioni, dai suoi peccati e vorrei che potessimo attentamente seguire la lettura del testo che Federica ci illustra, ci propone. Liberami da tutte le mie trasgressioni, non fare di me il vituperio dello stolto. Ecco, liberami da tutte le mie trasgressioni, non fare di me come dire il vituperio dello stolto. Ora a questo punto comprendiamo che chi ha un rapporto diretto con Dio, chi è collegato come dire intimamente con questa realtà soprannaturale vive e conduce la propria vita in come dire con un costante riferimento alla divinità. L'Idio che l'Idio di Davide non è l'Idio della Chiesa, del Tempio, è l'Idio del giorno quotidiano, è l'Idio della compagnia. Davide viene da esperienze molto forti sul piano personale con il suo rapporto con Dio. Davide era un giovane adolescente, era un pastorello, viveva prendendosi cura del greggio di suo padre. Ciò nonostante in quei momenti di solitudine dove da pastore portava le pecore sui monti, li portava come dire al pascolo stando probabilmente fuori anche giorni interi, li maturava un'esperienza costante con il Signore, imparava a lodare Dio, imparava la preghiera, imparava la fiducia nel Signore, alimentava la sua fede e la sua fede lo portava anche ad essere una persona anche molto attiva, dinamica. Davide risultò essere un guerriero eccellente, ricordiamo la sfida con il gigante Golia, dove trovò la forza, il coraggio, l'aiuto per affrontare quella sfida così, come dire, impari. Beh, la trovò nella sua fede, io vengo contro a te nel nome dell'Idio di Israele, nel nome dell'Idio di Israele, che io questo giorno ancora ti abbatterò. Quindi le fece una questione proprio di sfida spirituale e così riuscì ad abbattere il gigante Golia. Davide che era un giorno lì tranquillamente pascolando il greggio di suo padre mentre in casa sua c'era un solenne evento giungeva il profeta di Dio giungeva Samuele che veniva perché Dio l'aveva mandato nella casa di suo padre di Isai per ungere scegliere il nuovo re di Israele e quindi furono schierati tutti i figli di Isai ragazzi con comportamenti fieri robusti preparati a dovere perché in mezzo a tali Dio avrebbe scelto colui che sarebbe stato l'unto il re di Israele Davide fu trascurato fu lasciato come dire alle cure del greggio ma la scelta di Dio non è come quella degli uomini disse il profeta a suo padre io non mi siederò a tavola non mangerò se tu non avrai chiamato anche l'ultimo dei tuoi figli questo che non è presente e come vide Davide il profeta avvertì dentro nello spirito che quel giovane era stato scelto dal Signore e in quel giorno Davide fu unto un pastorello che diventa re re di Israele ecco quindi come dire queste esperienze noi non le possiamo trascurare nel momento in cui parliamo della fede di Davide nel momento in cui Davide da re parla e invoca la liberazione di Dio liberami Signore da tutte le mie trasgressioni e soprattutto Signore vigila sulla mia vita affinché io non possa essere schernito no dal lempio come se la mia vita spirituale potesse avere un crollo potesse avere un fallimento no come una roccia come una torre come una fortezza la fede di chi ha posto la sua vita su questo fondamento che è oggi noi diciamo in Cristo Gesù il Signore Davide nei suoi tempi non aveva la rivelazione del Cristo ma negli Dio di Israele ebbene è una fortezza che non potrà essere smossa e credo che Federica attraverso i nostri commenti andiamo in qualche maniera a rafforzare questi concetti questi pensieri sì vorrei leggerne ancora uno di Spurgeon nessuno può liberare un uomo dalla sua trasgressione al di fuori del benedetto Gesù perché Cristo salva il suo popolo dai propri peccati e una volta che Gesù ha liberato un uomo dalla causa sicuramente anche le conseguenze spariranno è degno di nota che Davide desiderasse la purificazione totale essere salvati da alcune trasgressioni sarebbe stato di poco giovamento era necessaria una liberazione completa non far di me il vituperio dello stolto lo stolto a cui si allude qui è Lempio che cerca sempre di trovare le colpe dei santi ed è sempre pronto a ridere di loro è una cosa terribile per un uomo essere oggetto della derisione dell'Empio per essersi allontanato dalla retta via purtroppo però moltissimi si sono esposti a un meritato disprezzo il peccato il peccato e la vergogna vanno di pari passo e Davide voleva essere preservato da entrambi ecco con il verso successivo ritorna di nuovo il motivo che noi abbiamo lasciato al verso primo e al verso secondo che è il motivo del silenzio il motivo della capacità di tacere in alcuni momenti per permettere a Dio di parlare perché se noi non stiamo in silenzio forse non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio se nel nostro silenzio se il nostro silenzio ha una funzione di attesa di aspettazione perché vogliamo vedere che Dio agisca al posto nostro vorrei Federica che potessimo leggere il verso successivo che in qualche maniera ci illustra questa posizione già richiamata nei primi due versi del Salmo 39 io ma ne sto muto non aprirò bocca perché sei tu che hai agito quindi io sto in silenzio e sto muto non aprirò bocca perché sei tu Signore che hai agito qualche altra riflessione Federica su questo testo sì ne ho una di Horatius Bonar Dio educa i suoi figli sulla terra questo è il suo vero modo di agire con loro l'istruzione dei suoi santi è l'obiettivo che egli si prefigge è preparazione per il regno è istruzione per l'eterrità è la disciplina dell'amore ogni suo passo è benevolenza in nessuna fase di questo processo ci sono ira o vendetta la disciplina della scuola potrebbe essere dura e severa ma la disciplina della famiglia è amore siamo sicuri di questo e la consolazione che ne traiamo è inesprimibile l'amore non ci farà dei torti e non porterà sofferenze inutili se soltanto se ne ricordassero gli uomini avrebbero pensieri meno duri su Dio persino quando i suoi colpi sono più severi non conosco descrizione migliore dei sentimenti che dovrebbero avere un santo nell'ora dell'amarezza di quella dei sentimenti del padre di Richard Cameron l'anziano santo era in prigione per la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo dei suoi persecutori senza cuore gli fu portata la testa sanguinante di suo figlio martoriato e gli fu chiesto sarcasticamente se la conosceva la conosco la conosco rispose il padre baciando la fronte dilaniata del figlio biondo è la testa di mio figlio del mio amato figlio è l'eterno buona è la volontà dell'eterno che non può fare un torto a me o alla mia progenie e che ci ha accompagnati con la sua bontà e la sua misericordia per tutta la vita è dolorosa questa testimonianza e naturalmente sono degli esempi di fede che solo alcuni martiri solo alcuni uomini che hanno sofferto la persecuzione più spietata come questa storia questa testimonianza andiamo a riflettere sui successivi versi perché perché in qualche maniera passano ad un'altra esperienza l'esperienza dell'uomo che sa accettare anche il castigo di Dio perché forse a noi questa dimensione disciplinare non piace amiamo ricevere il bene di Dio vogliamo e reclamiamo come dire l'attenzione la cura l'assistenza la provvidenza la guarigione di Dio ma tutti evitiamo rifugiamo dalla disciplina dalla correzione e invece la correzione di Dio è salutare come dire la pedagogia di Dio è fatta anche di momenti di punizione di castighi nei salmi come dire ritroviamo spesso questo richiamo anche il salmo 23 dice la tua bacchetta e il tuo bastone la tua verga il tuo bastone sono quelli che mi consolano nel nuovo testamento gli apostoli ci dicono che Dio punisce chi egli ama flaggella chi egli gradisce e penso che è necessario che il credente si sottoponga in maniera mansueta anche alla correzione di Dio così come possiamo leggere nel successivo versetto toglimi d'addosso il tuo plagello io mi consumo sotto i colpi della tua mano quindi dobbiamo in qualche maniera accettare anche la correzione di Dio perché la correzione di Dio non è semplicemente per punirci ma è per correggerci è una correzione amorevole quale può essere la disciplina o la correzione di un padre o di una madre nei confronti di un figlio discolo nei confronti di un figlio ribelle ma la ribellione non sarà mai guarita con le coccole o con come dire le compiacenze bambino risulterà un bambino viziato e maleducato ma laddove c'è una educazione amorevole e nello stesso tempo anche severa sicuramente l'equilibrio della crescita di un carattere sarà come dire ne troverà giovamento quindi anche il verso successivo continua su questo tema del cristiano che in certi momenti è necessario che riceva anche il castigo di Dio quando castigando l'iniquità tu correggi l'uomo tu distruggi come la tignuola quel che ha di più caro certo ogni uomo non è che vanità sela quindi anche in questo caso troviamo la pausa di sospensione questa virgola lunga il sela da dove ci parla della vanità ma nello stesso tempo anche del castigo di Dio Davide ha subito il castigo di Dio in momenti della sua vita per alcune sue trasgressioni che furono anche molto gravi per questo però Davide imparò ad accettare anche la punizione di Dio un santo uomo di Dio della Bibbia disse se abbiamo ricevuto il bene dalle tue mani signore come non potremo accettare anche il male ma non perché Dio voglia farci del male ma perché talvolta è necessario ricevere come diceva poc'anzi la correzione solitamente un re è una persona forte nella sua posizione di autorità e invece la correzione divina aiuta ad umiliare anche i potenti possiamo Federica proseguire con qualche altra riflessione sì vorrei leggerne una di George Ohm il corpo di un uomo è per l'anima come un vestito e in questo vestito il peccato ha posto una tignola che corrode e consuma gradualmente prima la bellezza poi la forza e infine la sostanza di ogni sua parte chiunque abbia osservato il processo di consunzione o qualsiasi altro decadimento graduale o persino le devastazioni lente e silenziose che il tempo rega il corpo umano non avrà bisogno di ulteriori carimenti su questa similitudine giusta e toccante perché riconoscerà subito l'adeguatezza della riflessione che segue certo ogni uomo non è che vanità il successivo verso il verso 12 è una stupenda invocazione io vorrei leggerla personalmente perché dice o eterno ascolta la mia preghiera e porgi l'orecchio al mio grido non essere sordo alle mie lacrime quante volte abbiamo invocato Dio con tale diremo pathos abbiamo invocato Dio con tale contrizione di spirito ma il Signore ascolta l'uomo che ha un cuore rotto e che ha uno spirito contrito però mi piace anche questo tema del pellegrino e dello straniero abbiamo Federica qualche illustrazione su questo aspetto si proprio su questa figura dello straniero e del pellegrino c'è un commento di Thomas Menton straniero e pellegrino uno straniero è una persona che abita in un paese estero che non è originaria né cittadina del luogo e che anche se vi abita al contrario degli abitanti originari è considerata straniera se per esempio un francese vivesse in Inghilterra sarebbe uno straniero un pellegrino invece è una persona che non ha intenzione di stabilirsi in un luogo ma che vi si trova solo di passaggio durante il suo viaggio verso casa così i figli di Dio per quanto riguarda la loro propria patria sono abitanti di un altro paese chiamato cielo e nel mondo sono stranieri mentre riguardo al loro viaggio verso la patria sono pellegrini è molto bella questo commento è molto bella questa illustrazione andiamo alla lettura dell'ultimo versetto quindi conclude il salmista dicendo Signore rianimami Signore in qualche maniera consolami Signore metti fine anche a questo momento di correzione e io credo che l'invocazione di Dio a Dio venga sempre ricevuta ascoltata e esaudita è così che con Federica vi vogliamo rivolgere il nostro affezionato saluto grazie per averci seguito nella lettura e meditazione del Salmo 3 e vogliamo così lasciarvi il nostro saluto Dio vi benedica alla prossima trasmissione dei tesori di Davide di Davide di Davide di Davide